Qui con SportsMall.it e con grande campione ex Juventus nazionale Stefano Tacconi Stefano Tacconi, come si diventa portieri? Qual è la strada da percorrere? È una passione che o ce l'hai nel sangue da bambino oppure durante il tempo non puoi cambiare, non puoi modificare È una passione veramente, scegli un ruolo e per la strada per sempre E come si diventa grandi come te? Ci vuole tanto sacrificio, ci vuole passione, un po' di impazzia Ci sono tanti attivanti importanti per fare il portiere C'è un erede di Stefano Taccone in Italia? Il portiere è uno all'altro, io credo che il portiere sia uno e basta Poi tutti gli altri saranno diversi nel comportamento e nel carattere Tra i giovani portieri, quale è che ti piace di più? C'è il portiere di Napoli che è bravo Poi il Juventus, credo che sono abbastanza quest'anno Finalmente mi hanno preso un po' il ruolo importante italiano dei portieri italiani Finalmente li fanno giocare Cosa ne pensi del rientro di Gigi Buffon alla Juve? È una cosa emotiva, di amore dopo 17 anni È giusto che uno finisca la carriera dove ha vinto tanto L'ultima domanda, Taccone l'avrebbe rifatto? Taccone l'avrebbe rifatto questa scelta? In un altro ruolo sì, non come reporter Grazie Taccone